600.000 euro per la Divina Providenza, ore ufficiale. Votato all'unanimità ieri in Consiglio regionale l'emendamento alla legge Omnibus presentato dai progressisti, primo firmatario Antonio Più, a favore dell'istituto fondato da padre Manzella. Un presidio importante per la città di Sassere e per tutto il suo territorio che accoglie e ricovera tante persone che non avrebbero alternativa di ricovero. Speriamo che sia la rinascita della Casa Divina Providenza sia per i suoi utenti ma soprattutto anche per i suoi lavoratori che hanno continuato a lavorare nonostante non ricevessero più stipendio per tanti mesi. Soddisfazione anche da parte di Gianfranco Satta, uno dei cinque firmatari. I 600.000 euro, dichiara il consigliere progressista, consentono di pagare le spettanze arretrate dei dipendenti e dare sicurezza alle 50 famiglie dei ricoverati in struttura. Sul tema interviene anche il sindacato CSA col suo segretario Giovanni Piras. E' una boccata di ossigeno, afferma Piras, che può far ripartire la Casa in attesa che si riescano a recuperare tutte le rette dopo gli inopportuni pignoramenti fatti da alcuni lavoratori. Ora sarà il commissario Pino Ortu, nominato dalla Regione, a giugno a superare i diversi contenziosi in atto, conclude il consigliere Satta, e riprogrammare il proseguo di un'attività essenziale per la città di Sassari.